Buonasera e benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale di Telestense. Apriamo il Tg con la tragedia che oggi ha stravolto tutta la nazione. Il crollo del ponte a Genova ha scioccato anche i ferraresi. Decine di morti, tanti feriti, una città, una regione tagliata in due. Abbiamo sentito un ferrarese d'adozione che oggi era nel capoluogo Ligure. Oddio! Oddio! Un crollo attorno a mezzogiorno che ha stravolto una tranquilla giornata prefestiva ferragostana. Il ponte Morandi sulla 10 che viene giù e inghiotte decine di vite. Una vera e propria tragedia, le macchine dei soccorsi sono ancora a lavoro a Genova. Da Ferrara non sono state inviate squadre dei vigili del fuoco. Al lavoro, dai primi minuti dopo il crollo, c'erano almeno 200 vigili. Diversi ferraresi che si trovavano nel capoluogo Ligure che su Facebook o tramite WhatsApp hanno avvertito di star bene. Tra loro c'è anche Simone Delle Piane, genovese di nascita e ferrarese d'adozione. Nella città estense dal 2001 ha gestito un forno e ora si trova nel capoluogo Ligure in vacanza. La città è sotto shock, ci ha detto al telefono. È ancora troppo presto per certificare le cause del crollo del ponte di Brooklyn, così lo chiamano i genovesi. Qualcuno parlava che si sentivano dei tremoli, ma a me viene in mente che i tremoli con i camion li sentivamo anche sul ponte del Po, quello a Ponte Lago Scuro. Quando passa un camion, bene o male, sono fatti apposta per avere un po' di movimenti e tutto. Però non si poteva immaginare che venisse giù un ponte così. E la mente dei ferraresi sarà andata parallelamente anche al ponte sul Po, a Ponte Lago Scuro, al centro dei lavori di manutenzione, protagonista del servizio TG in onda su Telestense venerdì. E proprio sul ponte crollato a Genova erano in corso da tempo dei lavori. Vicinanza alle famiglie delle vittime alla città di Genova, la esprime l'assessore comunale di Ferrara Aldo Modonesi, che affida a Facebook il proprio pensiero e sottolinea come solo i due giorni fa attraversò il ponte Morandi, definito dall'assessore imponente, ma che allo stesso tempo ti fa sentire fragile. E l'infrastruttura rappresenta un'arteria fondamentale per la viabilità genovese e ligure. La città è tagliata in due per il ponente, cioè la parte più a ponente è tutta bloccata, innanzitutto perché parlano di possibili fughe di gas, perché ovviamente venendo giù il ponte sotto passava una linea ferroviaria, ci sono delle case, quindi comunque c'è il Polcevra, che è l'altro torrente di Genova che attraversa la città. Abbiamo due torrenti che attraversano la città, uno è quello che fa le alluvioni e uno è quell'altro lì, quindi è caduto su quella valle lì, quindi ovviamente ci passano tutti i collegamenti elettrici di gas e tutto, quindi è un po' drammatica per quello e soprattutto l'autostrada adesso è completamente divisa, perché arrivi fino a Genova e poi dopo l'altra uscita è quella dell'aeroporto, ma non è ovviamente accessibile. Quando il ponte è crollato oggi il maltempo si stava battendo su Genova, come su buona parte d'Italia, anche Ferrara è stata al centro di una perturbazione che ieri nel tardo pomeriggio ha investito la città estense e la provincia, diversi gli alberi abbattuti e la grandine caduta nella zona sud-est ha generato danni all'agricoltura, disagi anche all'ospedale Sant'Anna di Cona, un albero è stato sradicato ed è finito sul parcheggio per disabili. Segnalate anche piccole infiltrazioni che hanno coinvolto alcuni pannelli del controsoffitto all'interno dell'ospedale, ora però già ripristinate. Danni e disagi anche nel Centese, un albero caduto ha bloccato la circolazione su Via Nuova e danni si sono registrati in centro. Insomma è stata una vigilia di ferragosto piovosa e la nuvolosità ha caratterizzato anche le ultime ore. Domani, giorno di ferragosto, l'aeronautica militare non prevede piogge su Ferrara e i Lidi di Comacchio ma un tempo variabile, mentre il maltempo dovrebbe lasciare la città estense stanotte. Cronaca adesso, pauroso scontro frontale tra due camion, questo pomeriggio attorno alle 16 sulla Romea, all'altezza di Vaccolino, per cause in corso ad accertamento i due mezzi pesanti si sarebbero scontrati e i conducenti sono rimasti gravemente feriti. Intervenuto l'elisoccorso di Ravenna e sanitario del 118, ANAS ha disposto la chiusura temporanea della Romea in entrambe le direzioni per permettere lo sgombero dei due mezzi pesanti e di tutta la careggiata. Ancora cronaca, un uomo si scaglia contro i poliziotti e sottrae la pistola dalla fondina di uno di loro. E quanto sarebbe accaduto in stazione dei treni a Ferrara? A denunciare il fatto Stefano Paoloni, segretario generale del sindacato autonomo di polizia SAP. Avrebbe potuto commettere una strage, commenta così il sindacalista, che racconta di un uomo di origine nordafricana di 29 anni, il quale avrebbe dato in escandescenze e dopo aver ferito le, ovviamente i due agenti della polizia ferroviaria, sarebbe stato disarmato dagli stessi. Urge la dotazione di pistola taser agli agenti, conclude Paoloni. Cambiamo ora per argomento, siamo alla vigilia di un ferragosto che vuol dire pranzi e cene con la famiglia e gli amici. Allora sentiamo delle chef di un noto ristorante di Gaibanella vicino a Ferrara. Quali sono i menu preferiti dai ferraresi e come si può rinfrescare la tradizione in cucina? Chi non vuole abbandonare la tradizione ferraresi in cucina neanche a ferragosto la può reinventare. La cucina estense principalmente predilige pietanze adatte a temperature più fredde di quelle attuali, ma con un po' di fantasia anche a ferragosto si possono degustare i piatti tipici della tradizione. Abbiamo il cappellaccio di zucca per dire che è l'emblema di Ferrara. A parte ragù e burro e salvia si può benissimo abbinare con dei ragù di pesce che si sposa proprio a meraviglia. È particolare, ancora non tutti sono aperti a questi nuovi gusti, però è un'alternativa valida. Poi insomma con i caldi di adesso direi che anche una bella salamina fettata con i fichi di stagione che adesso è sempre un connubio perfetto che anche da antipasto si può servire a ferragosto. Il passatello nella sua versione è asciutta, anche magari su una vellutata, il passatello è asciutto condito magari con dei gamberetti, su una vellutata, su un pesto, è un ottimo abbinamento. In questo periodo, seppur tanti siano in vacanza, non mancano i ferraresi che vanno al ristorante in città e nelle zone limitrofe, ma cosa cercano in estate? In questo periodo con i gran caldi diciamo le abbiniamo un po' di pesce antipasto freddo insieme al gratinato, diciamo che è quello che va per la maggiore. Troviamo la capa santa gratinata, abbiamo il pesce polipo seppia ai gamberi, i gamberoni, abbiamo il carpaccio dentro, il cocktail di gamberi e i crostini. Poi dopo ovviamente anche le grigliate, gli spiedini, sono i piatti insomma più gettonati. La grigliata mista di pesce, pesce solo di polpa, quindi abbiamo la sogliola, abbiamo il filetto di branzino, abbiamo lo spiedino di seppia, lo spiedino di gamberi, una capa santa e un pezzettino di polenta. Invece la grigliata di crostacei è più ricca, comprende un mezzo astice, gratinato, canolicchi, canestrelli, cappessante, ostriche. Invece il fritto di pesce lo facciamo con i calamari, i calamaretti e i gamberi. Se il pesce la fa da padrone al ristorante in estate, può essere protagonista anche nelle cucine delle case dei ferraresi, basta qualche consiglio. A chi piace il crudo, un carpaccino di pesce spada, tonno, magari marinato con degli agrumi e poi abbinato con un french toast di fianco tagliato a cubettini. Fa scena, lo metti a tavola come antipastino ed è una cosa un po' originale. Ecco, l'unica cosa che mi sento di consigliare a chi piace il crudo, l'abbattimento del pesce prima, perché è veramente molto importante. Oppure un antipastino a chi non piace il crudo, un antipastino di mare, seppia, polipo, gamberetti, abbinato ai nostri prodotti del luogo, la pesca, la nettarina, i GP, il melone, tagliato a cubettini, condito col pesce, una riduzione di aceto balsami con un po' di rucola e abbiamo un antipastino originale, un po' nuovo, fresco. Il giorno di Ferragosto, ferrare tante città italiane sono, saranno semivuote. I ferraresi in vacanza ci sono, ma non mancano gli appuntamenti in città per un Ferragosto alternativo. Molti ferraresi sono partiti e stanno partendo per le vacanze, ma sono tanti i lettori che hanno già confermato la loro presenza alla maratona di lettura di Ferragosto della Biblioteca Bassani di Ferrara. Questo è il tradizionale appuntamento del Ferragosto ferrarese dedicato quest'anno alla pace, al disarmo e alla non violenza. Giunta alla sedicesima edizione, l'iniziativa dal titolo Leggere parole di pace e non violenza in azione, storie anche ferraresi, si tiene il 16 agosto dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18 e 30 nella sede della Biblioteca in Via Grosso, L'Iabarco. La partecipazione alla maratona consiste nella lettura ad alta voce per la durata di circa 5 minuti di un brano scelto in biblioteca, a caso in libreria. È libera e senza limiti d'età, ma occorre prenotarsi. Ma la tradizione ferragostana in città prevede anche la classica cocomerata al canile comunale in Via Gramicia. Mercoledì 15 agosto, al pomeriggio, oltre alla distribuzione di angurie, i ferraresi potranno visitare il canile e conoscere i cani che vengono ospitati, nella speranza che questa iniziativa possa rappresentare per i quasi 100 amici a quattro zampe ricoverati anche un'opportunità per trovare una nuova famiglia. Ferragosto e anche musica tornano a suonare nella palazzina Marfisa d'Este, in corso Giovecca Ferrara, le Alinere, la tribute band dei nomadi più famosa e seguita della città e del territorio estense, in concerto nella vigilia di Ferragosto, martedì 14. Mentre mercoledì 15, il giorno di Ferragosto, alla sera, si torna alla musica classica nella palazzina Marfisa d'Este, con Maddalena Giacopuzzi al pianoforte e le musiche di Chopin e Debussy. A proposito di eventi, è una vigilia di Ferragosto di sezione al castello estense di Ferrara. Alle 19.30, la visita guidata speciale dal titolo Viaggio nell'arte ferrarese tra le opere della colazione Sgarbi-Cavallini, le sale ospitano Monio Vadia, scrittore e autore che leggerà brani dei libri di Giuseppe Sgarbi e Vittorio Sgarbi, con le letture e aneddoti familiari. Ovadia e Sgarbi incontrano nuovamente il pubblico alle 21 insieme a Morgan, non soltanto nella sua veste più nota di cantautore, ma anche in quella di autore. Disservando ai visitatori, la lettura di alcuni brani dei suoi libri è una sorpresa dedicata alla mostra. Eventi in castello, quindi, questa sera, sono previsti fino alle ore 23. Parliamo d'ambiente, perché emergono novità sul dossier stilato da Goletta Verde, l'occhio di lega ambiente sui mari e i corsi d'acqua. Il 12 agosto si è concluso a Trieste il viaggio di controllo delle acque marine costiere di Goletta Verde 2018, rientrati in porto dopo un viaggio iniziato dalla Liguria. 261 punti campionati dai tecnici nelle 15 regioni costiere italiane. Di questi, solo il 52% è risultato entro i limiti di legge. Il restante 48% è, invece, fortemente inquinato per il 39%, inquinato per il 9%. E la causa di questi risultati è da attribuire alla mala depurazione, di cui ancora soffrono, come dice il repo delle gambiente, baste aree del nostro paese e per la quale l'Unione Europea ci ha presentato un conto salatissimo. Sulla depurazione, l'Italia è oggetto di due condanne e di una terza procedura di inflazione che riguardano complessivamente 909 agglomerati urbani, di cui il 25% pari a 231 agglomerati in Sicilia, 143 in Calabria e 122 in Campania. La grande opera pubblica di cui non si parla mai nel nostro paese è il completamento della rete fognaria e di depurazione delle acque reflue, ha dichiarato il direttore generale delle gambiente, Giorgio Zampetti. La mala depurazione è, infatti, un'emergenza ambientale che va affrontata con urgenza, visto, continua le gambiente, che siamo anche stati condannati a pagare dall'Unione Europea una multa da 25 milioni di euro più 30 milioni ogni sei mesi, finché non ci metteremo in regola. Mettere finalmente a cantiere le opere necessarie permetterebbe anche di non sprecare soldi pubblici, pagando per le nostre inadempienze, ma di investirli in nuovi impianti, con le tecnologie e le conoscenze oggi disponibili, in modo tale da trasformare un problema in una risorsa, restituendo acqua pulita per diversi usi, a partire da quello irriguo. Anche quest'anno, però, la fotografia scattata da Golletta Verde ci restituisce situazioni critiche segnalate da anni, ma per le quali poco o nulla è stato fatto. Per questo, ha concluso Zampetti alla denuncia pubblica sullo stato delle acque, Leggambiente ha deciso di continuare l'azione giudiziaria che già lo scorso anno ha permesso di intervenire in diverse situazioni, presentando nuovi esposti alle autorità competenti per chiedere di verificare le cause di queste criticità e denunciare i responsabili secondo le nuove norme previste dalla legge sugli ecoreati. Mancano pochi giorni e prenderà il via il Ferrara Baskers Festival. Prima tappa, subito dopo Ferragosto, il 16 a Mantova. Poi la tradizionale anteprima a Comacchio, venerdì sera, e nel weekend, sabato e domenica, gli artisti di strada saranno a Ferrara. Un festival definito ambientalmente sostenibile, ma sentiamo cosa vuol dire. La sostenibilità qualche volta è diventata un po' come il pomodoro, che lo si mette un po' dappertutto. Però non può essere solo uno slogan, ed era, per era non lo è. No, non lo è, non lo è affatto, ma si dimostra la sostenibilità. Vuol dire, riusciamo a fare anche un evento come il Basker Festival, senza produrre tonnellate di rifiuti che non possono ritornare in circolo. Riusciamo a fare qualcosa senza che sia un eterno consumo. Ecco, questa, se vogliamo, è l'applicazione, cercare di dare coerenza in un momento pubblico a quello che chiediamo di fare tutti i santi giorni nelle nostre case. Un'informazione di servizio resterà chiuso fino al 20 agosto l'Emporio Solidale Il Mantello. È un luogo in cui persone e famiglie in difficoltà economica possono, per sei mesi, rinnovabili al massimo fino a 18, ricevere un aiuto per raggiungere piccoli obiettivi di miglioramento rispetto alla situazione personale o familiare che stanno vivendo. Il Mantello è, insieme, una serie di servizi attivati dal Comune di Ferrara, Agire Sociale, Azienda Servizio alla Persona e Servizio Sanitario Regionale, AUSL di Ferrara, offerti a chi vuole uscire da una situazione temporanea di disagio e di difficoltà, evitando di cadere nella trappola dell'esclusione sociale. Nato come Emporio Solidale, il Mantello, con i propri volontari, mette a disposizione a titolo gratuito colloqui di accompagnamento alla ricerca di lavoro, segnala corsi di formazione gratuiti per avviare ad un percorso di orientamento al lavoro che è obbligatorio perché disoccupato. Offre inoltre la possibilità di partecipare ad attività culturali e sportive gratuite. Fornisce, infine, consulenza legale e aiuto psicologico. L'accesso all'Emporio Solidale prevede inoltre la distribuzione di beni alimentari di prima necessità attraverso un piccolo market. Ad oggi, i beneficiari del Mantello sono 466 persone, 119 nuclei familiari con 202 minori, che possono fare la spesa gratuitamente per un periodo, dicevamo, di massimo 18 mesi nel market solidale. Dal 2 luglio al 10 settembre 2018, le persone interessate in possesso dei requisiti necessari possono presentare la domanda per accedere al bando 2018 pubblicato sul sito. Due sono le condizioni che rendono davvero utile l'inserimento del programma di aiuti del Mantello. Il primo è rappresentato dalla disponibilità di attivarsi personalmente individuando piccoli obiettivi di miglioramento personale o familiare, che verranno monitorati a sei mesi dall'avvio del progetto. I volontari sono a disposizione su appuntamento per aiutare chi ha bisogno di un aiuto nell'individuazione degli obiettivi di miglioramento. La non attivazione a sei mesi dall'avvio del progetto senza giustificati motivi può costituire motivo di esclusione dallo stesso. La seconda condizione è rappresentata dalla capacità di comunicare agevolmente in lingua italiana, sia da parte dell'intestatario della domanda che da parte del coniuge convivente. La conoscenza della lingua italiana è infatti considerata un prerequisito per qualsiasi progetto di reale e soddisfacente inserimento nella comunità, in quanto permette di capire e di farsi capire, di conoscere i diritti e i doveri di cittadinanza. Grazie allo sport, adesso Spal, in arrivo il centrocampista Missiroli del Sassuolo e il difensore Simic della Sampdoria. Sono ore calde e le ultime di un calciomercato che ha visto la società bianco-azzurra muoversi molto. Intanto mancano pochi giorni all'esordio in campionato. Sentiamo allora le novità nelle interviste di Alessandro Sovrani, fatte dopo la partita di Coppa Italia contro la Spezia, a Francesco Colombarini, il patron della SPAL, e al centrocampista Spallino Pasquale Schiattarella. Inizia il campionato, 48 ore prima termina il mercato, cosa ci possiamo aspettare? Vedi che le ha giusto la cravatta, ha detto che ci aspettiamo. Noi abbiamo fatto una squadra che ci dovrebbe dare la possibilità di arrivare dal dodicesimo, tredicesimo, chiaro, e la salvezza è l'obiettivo principale. In questi ultimi giorni di mercato potrebbe esserci qualche partenza, qualche arrivo? Adesso si tratta di collocare alcuni giocatori, che dovremmo collocare e che loro hanno già in vista dove, ma credo che in entrata non ci sia granché. Leonardo Semplici ha detto chiaramente che Pasquale Schiattarella è il regista della SPAL. Sono contento, è un ruolo che a me piace, già l'ho dichiarato tante volte, da partita del Crotone sono iniziato a giocare lì, mi impegno ogni giorno per migliorarmi, sicuramente c'è anche concorrenza in questa squadra, quindi bisogna stare sempre sul pezzo perché se no ti rubano la merenda e io questo non l'accetto, quindi mi farò trovare sempre pronto. Quanto è importante per voi centrocampisti avere sul fronte offensivo un punto di riferimento come Petagna? Andrea è venuto con lo spirito giusto, sicuramente anche lui deve entrare nei meccanismi del mister. È un giocatore forte che non ha bisogno di presentazioni. Oggi è importante che ha trovato il gol e la squadra ha fatto tutto per metterlo in condizione, come a lui, come agli altri, perché se gli attaccanti fanno gol siamo tutti più contenti, anche perché durante la settimana così ridono, capito? E ne abbiamo bisogno di gente che sta col sorriso. Mancano pochi giorni all'esordio nel derby con il Bologna in Serie A, esaurita la disponibilità dei biglietti per il settore ospiti allo Stadio Dall'Ara. Entusiasmo quindi alle stelle per i tifosi della SPAL, numerosi anche durante la scorsa presentazione della squadra in Piazza Castello. Siamo arrivati alla conclusione di questa serata, dunque la squadra presentata, abbiamo con noi due amici, i vostri nomi? Giovanni e Simona. Allora, intanto così a caldo, cosa vi è sembrata questa presentazione e soprattutto questa nuova squadra? Beh, la presentazione è bellissima, poi insomma anche il Castello ci dà una mano, la nuova squadra certamente migliore dell'anno scorso, però come diceva il Presidente, ci sono tre squadre che sono usalite, che hanno una grande esperienza, quindi sarà molto difficile, ma la società della Serie noi contiamo sicuramente sulla salvezza. Tu sei una giovane tifosa, che cosa ne pensi della SPAL e da quanto tempo è che sei diventata tifosa? Allora, la seguo ormai da cinque anni, da quando sono in Serie C, e andavo allo Stadio, avevo l'abbonamento e mi piace molto la squadra di quest'anno e spero che si salvi anche quest'anno, ma non sono scura. Giusto, anche perché questo è quello che è emerso, avete già l'abbonamento? Certo, gradinata, certo, ovvio. E ormai tre anni che abbiamo l'abbonamento, noi saremo sempre lì, anche la trasferta le faremo tutte, come al solito. Di Mattioli che cosa ne pensate, visto che alla fine conti lui che ha fatto il discorso finale, questo Presidente amato dalla gente? Mattioli è un Presidente ferrarese, è la Ferrara che porta in giro per l'Italia, quindi Mattioli è un grande Presidente, penso uno dei migliori. Chiedo a te invece il tuo giocatore preferito? Alberto Paloschi! Allora, ragazzi, buona SPAL, buona annata e che tutto vada nel migliore dei modi. Forza SPAL e vi ricordo che la Juventus è il numero 7, Cristiano Ronaldo, ma noi abbiamo Mirko Tenucci che è 100 volte meglio. Bene, questo era l'ultimo servizio, non mi resta che ricordarvi tutti gli aggiornamenti sul sito tra le stesse punto it e sulle pagine Facebook. Grazie e buona serata! Grazie a tutti!